L'amministrazione ha stanziato circa un milione e mezzo di euro per la manutenzione dei 170 alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzati. Nel momento in cui introiteremo le somme derivanti dall'alienazione di Cascina Ponchia e dalla monetizzazione dell'ex Cisalpinia, l'amministrazione destinerà queste somme al capitolo di bilancio preciso destinato alla manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. auspichiamo che queste somme possano essere introitati in tempi stretti per dare riscontro quanto prima alle esigenze legittime di coloro che cercano un alloggio di edilizia residenziale pubblica. C'è la massima disponibilità dell'assessorato a collaborare anche con il sindacato Asia? C'è sempre stata la massima disponibilità dell'assessorato a collaborare con tutti i sindacati compreso l'Asia.